Armati di coltello avevano minacciato fuori dalla casa di caccia alcuni coetanei facendosi consegnare soldi e alcuni preziosi. Era una sera di ottobre di due anni fa. Uno dei due giovani della marca trevigiana di 22 anni era stato arrestato subito, trovato con la felpa rubata ancora addosso, si era nascosto dietro ad una siepe. Per arrivare al secondo ai militari dell'arma ci ha voluto più tempo. A metterli sulle tracce del complice la videochiamata è realizzata poco dopo la rapina per farsi beffa della vittima ed esibire la refurtiva. Il ragazzo è un ventenne residente nel Coneglianese. Nella sua casa i militari hanno trovato parte della refurtiva. Nel suo cellulare è ancora il videomessaggio inviato la sera della rapina. Il giovane complice è stato condannato a due anni e nove mesi di reclusione per rapina aggravata in concorso e lesioni. Secondo l'autorità giudiziaria a lui sono collegati altri episodi di microcriminalità. Una rissa avvenuta presso un locale di San Fior con ferimento di tre minorenni, un pestaggio in un esercizio pubblico di Conegliano, oltre ad alcuni danneggiamenti di negozi e veicoli avvenuti negli ultimi mesi nel comune di Santa Lucia di Piave.